Corrado Fontana mente. Come ha mentito a noi mentirà anche a voi. Non può presentarsi in azienda e dire io posso aumentare il fatturato, posso risolvere i problemi della vostra azienda. Mi chiedo chi è Corrado Fontana per venire nella mia azienda e permettersi di dire che sa qualcosa più di noi nel nostro settore. Infatti Corrado Fontana non ha fatto questo con IBS, non ha migliorato niente dell'IBS, ha fatto qualcosa di diverso. Corrado con la sua umiltà è venuto in punta di piedi e ha fatto sì che noi migliorassimo la nostra azienda. E questa è una cosa completamente diversa da un professionista che viene per migliorare dentro casa tua rispetto a un professionista che viene e ti insegna a migliorare la tua azienda. Ecco perché consiglio Corrado Fontana perché certi obiettivi prima del suo arrivo pensavo non si potessero nemmeno pensare, non ottenere nemmeno pensare, grazie al suo metodo preciso, scadenziato, professionale, siamo arrivati quasi alla fine del percorso in brevissimo tempo. Grazie Corrado.